ok allora in questo video cercheremo di svelare i segreti di questo almeno iniziale di confi UI che è questo programma che è molto apprezzato ultimamente ma ha un'interfaccia che ad alcuni può risultare diciamo non così ovvia è abbastanza veloce più veloce rispetto ai concorrenti e quindi è per questo che sta diventando famoso come fare per trovarlo quindi bisogna innanzitutto cercarlo con google e si arriva a un progetto su github che si chiama confi anonymous confi UI e dentro questo progetto ci sono varie cose ma soprattutto c'è le release che ha fatto cliccando sulle release che ho già fatto danno un link che è questo qua che ho scaricato già è un file quasi 5 gigabyte è un file che non sfrutta ancora tutte le potenzialità di confi UI quindi poi dopo probabilmente dovreste scaricare altre cose oppure come faccio io faccio i link simbolici per evitare di duplicare decine e decinaia e decinaia di gigabyte sul disco comunque una volta installato l'ho messo quindi viene scaricato un 7 zip questo 7 zip è adesso qui non è questo ma è un altro questo 7 zip contiene comunque una serie di informazioni praticamente una volta scaricato dentro ci avete una cartella e lo scaricato sotto stable diffusion new confi UI windows portable nvidia sotto questa cartella c'è un'altra cartella il suo nome purtroppo quando si fate l'impacchettamento a volte vengono più cartelle ma per il momento va bene così e qui abbiamo run nvidia gpu se avete un nvidia ed è preferibile perché questi programmi funzionano più facilmente con una scheda grafica di una certa elevatura io c'è una scheda grafica la 1080 di nvidia che risale al 2017 può anche lavorare sul cpu ma sul cpu insomma non è non è il massimo che quando cliccate eseguite questa cosa viene eseguito di fatto uno script in python una cosa complessa però confi UI cerca di essere abbastanza semplice e quindi cosa fa in pochi secondi praticamente parte e vi da accesso tramite il web quindi si apre automaticamente anche la finestra web e compare questo che è il workflow di base e quindi adesso parliamo del workflow allora come funziona il workflow di base è già perfettamente funzionante quindi adesso lo possiamo provare e c'è due prompt c'è il prompt positivo e il prompt negativo quindi il prompt positivo adesso c'è una bottiglia normalmente quindi volendo potete fare anche q prompt qua quindi andate semplicemente in q prompt e aspettate ok allora facendolo girare così senza fare niente ci da un errore rosso ora aprendo readme questo errore è atteso perché vedete che ci dice che se avete una nvidia scrivete run vid gpu in slow cpu modern cpu bat come detto prima se avete un errore rosso nella interfaccia utente dovete verificare che dentro in config si usura i monte cpa ci sia un modello dentro per questo sembra che non riusa un rischio di modelli normalmente quindi praticamente dovete andare vedere sull con fui guai andate sotto models e vedete sotto checkpoints ecco qui vedete che non c'è nessun modello adesso probabilmente le hanno fatto per rendere il tutto abbastanza leggerò 볼 di bisogno e mettere un checkpoint qua io in realtà di checkpoint in giro per il mondo c'è di ho quindi adesso metterò qua dentro un file e commetto qui ho messo un simbolo in link perché mi sono stufato di riempire il disco visto che Windows ha questa opzione che non è facilissima ma da ottenere gli ho messo il simbolo in link di v1.5 prune demo only ckpt che è praticamente lo stable diffusion 1.5 un po' vecchio ma serve per capirci un attimino bene sono mi sembra 4 gigabyte anche lui se voi mettete ovviamente il file effettivo preso da HackingFace o da altri programmi simili come Focus no no Focus non ce l'ha ma altri vecchi e comunque eccetera avete questo programma qua ok quindi a questo punto torniamo sul nostro load checkpoint ipoteticamente se lui facesse refresh ve lo non ce l'ha probabilmente la cosa quindi Vipass non c'ha un refresh delle cose quindi l'unica cosa che vi rimane da fare è sostanzialmente far ripartire quindi praticamente facciamo Stoped Server e praticamente ripartite cliccando di nuovo il Run il Run quindi New Confuse UI questo qui che avete scaricato Confuse UI portatile Run NVIDIA CPU BAT che compare ad un'altra finestra nera ok quindi questa finestra nera fa aprire un altro interfaccio utente quindi questa qua praticamente quella vecchia la togliamo e dopodichè andiamo a questo punto nel checkpoint name in teoria dovreste avere ecco V1 5 pruned ma only ora avendo il modello abbiamo facendo Q prompt non dovrebbe più diventare rosso vediamo un po' se è vero quindi fa Q size 1 quindi l'ha messo in coda se volete vedere la coda di stampa fate VQ e vedete quanti processi avete in coda e la cosa interessante è che vedete in verde il blocco che è in esecuzione in quel momento all'inizio ok ci impiega relativamente poco e poi vedete che carica e fa il sample e genera praticamente l'immagine finale che sarebbe una bottiglia con un paesaggio spaziale detto in poche parole ok e questa è la bottiglia la bottiglia adesso lo descriviamo come vedete non è eccezionale però potete rilanciarlo la seconda volta quindi fate un Q prompt vedete che il modello è già caricato prima quindi non viene ricaricato viene praticamente chiamato il K sample del decode e otteniamo un altro esempio questa immagine possiamo averla in tutte le sue dimensioni che è questa ecco la dimensione massima che è questa e potete allocare la foto dove meglio la vedete ora andiamo un po' nel merito dei blocchi allora i blocchi vedete che abbiamo il load checkpoint che è quello che abbiamo combattuto prima per metterci il modello che carica un modello e a questo punto il modello ci serve perché deve essere fornito il K sample che è quello che fa praticamente la stable diffusion cioè l'operazione stable diffusion viene fatta da questo blocco che fa tutto l'algoritmo di stable diffusion quello vecchio e andiamo qui non siamo ancora a SDXL infatti la qualità dell'immagine e ancora non è ancora eccellente ma abbiamo il clip quindi il modello clip praticamente indica come analizza i testi per rappresentarli all'interno dello spazio latente quindi abbiamo questo clip che va qui e qua e abbiamo poi il VIE che serve fondamentalmente per decodificare per passare dello spazio latente all'immagine effettiva se non facessimo questa decodifica non vedremo l'immagine perché non avrebbe senso ok quindi qui tra l'altro nell'ultima versione il K sempre fa anche vedere che cosa sta facendo ma per motivi didattici è utile anche questo metodo perché è il più semplice quindi le dimensioni dell'immagine adesso avete visto che è 512 per 512 perché abbiamo dato al K sempre un'immagine di partenza che è sostanzialmente bianca 512 per 512 se voi aveste un'immagine vostra e voleste partire da quella qui dobbiamo caricare l'immagine con un blocco e poi passargliela un po' come si fa con Blender ora per controllare il Seed ad esempio se si vuole avere un significato un effetto persistente qui dobbiamo mettere Seed 1 e invece che Randomize si dice Fixed Fixed ok e qui si controllano gli step quindi 20 oppure si mette di più o di meno insomma si prova a vedere insomma finché non si ottiene praticamente quello che si vuole il Denoise è un qualche cosa che controlla quanto è aderente l'immagine in uscita rispetto all'immagine di ingresso quindi 1 vuol dire che viene consentita una libertà sostanzialmente di pulitura del rumore quindi viene generata l'immagine minore di 1 si applica quando si applica su un'immagine preesistente perché magari si vuole modificare di meno e quindi per modificarlo di meno si lavora sul Denoise le altre cose sono varie comunque adesso abbiamo cambiato non abbiamo cambiato niente in pratica ma se volessimo avere un'immagine piccola basta partire da un'immagine piccola tenete conto che però il database di stable diffusion quindi width 64 non ce lo prende no niente ah si l'ha preso 64 quindi se voglio fare 64 per 64 dovrebbe essere un'immagine piccolissima e quindi dovrebbe essere anche veloce a fare il sampling perché l'immagine c'è molta meno roba a gestire e possiamo dirgli anche quante foto produrre quindi per esempio 2, 3, 4 ok se gli facciamo il cue prompt quindi viene riapplicato sempre vedete che è molto più veloce di prima viene fatto 50 samples e quindi si ottiene praticamente un'immagine che però essendo che 64 non è il modo in cui è stato trainato quindi bisognerebbe praticamente mettere quindi profondi diverse comunque l'ideale è 512 qua quindi 512 e 512 perché altrimenti a volte funziona ma più volte da immagini neutre di questo tipo quindi 512 scusate 512 ok riproviamo sempre chiedendovi 4 immagini che abbiamo generato e gli step 50 sono un pochino tantucci comunque proviamo a farlo facciamo cue prompt e facciamo con 50 step e vedete che è molto lento però è lento anche perché sta generando 4 versioni quindi ci sono 4 immagini generate quindi vedete che lavoriamo sul k sempre sempre con la bottiglia con dentro uno spazio purple galaxy quindi una glassia porpora e vediamo che lui sta generando le 2 e 4 immagini partendo sempre da questa immagine bianca e usando queste opzioni e usando i prompt quindi tra poco ne dovremo generare una sola magari per essere un attimino più veloci adesso siamo in tempo reale sulla mia scheda grafica vecchia sulle schede grafiche nuove questa operazione è molto più veloce si parla di 10-20 volte più veloce quindi questo è il motivo per avere una scheda grafica potente però alcune operazioni non si velocizzano molto tipo l'odg che vedrete a un certo punto diventa anche importante ok questo è finito fa il decode e noi abbiamo le quattro foto vedete e possiamo vedere le foto una per soscuna e praticamente così praticamente lupiamo sulle quattro foto vede che di queste quattro foto alcune sono carine altre no o comunque non è una bottiglia e quindi non è adatta però siamo siamo già a livello di produrre velocemente allora qui diciamo anziché quattro ne mettiamo una produciamo una sola immagine diciamo 112 e qua sopra mettiamo per esempio Mona Lisa foto realistic with Leonardo da Vinci ecco una cosa che gira abbastanza qua e gli mettiamo come prompt negativo quindi bad anatomy ugly non vogliamo immagini brutte e non vogliamo low resolution e magari qua gli mettiamo masterpiece così dovremmo ottenere un'immagine sola quindi dovremmo fare abbastanza rapidamente vedete che è molto più veloce che dovrebbe rappresentare la Mona Lisa con Leonardo da Vinci che aspettiamo un secondino ed ecco la Mona Lisa ma anche Leonardo da Vinci non l'ha capito bene e la foto come vedete c'è una serie di difettini forse facendo meno step ad esempio questi difettini possono anche essere ovviati vedremo poi che la versione giusta per fare queste cose qua è intanto passare a SDXL che è molto più preciso poi fare due step due passi uno di avvicinamento diciamo della foto e uno di affinamento e poi ci sono tutta una serie di altri trucchi che diventano possibili quindi facciamo questo masterplace rifacciamo di nuovo il Q prompt dopo aver messo 20 e vediamo un attimo un altro esempio qui ci sta dicendo che sono 5 che stanno girando qui sta facendo la Mona Lisa e qui è più o meno la Mona Lisa perché è uguale vi domandete voi perché abbiamo detto che il seed è sempre l'1 quindi la parità di seed come io dico sempre si ottiene lo stesso immagine con stable diffusion se si vuole avere un'immagine diversa si cambia il seed quindi si mette un altro seed ad esempio il 2 oppure si mette qua randomize quindi facciamo l'ultimissima prova per il video quindi vedremo che cambiando il seed avremo una Mona Lisa diversa ecco è diversa ma non tanto diversa ha navigato un po' insomma nello spazio però insomma è abbastanza attendibile ora queste immagini se vogliamo copiarle facciamo open image e quindi abbiamo un'immagine che poi possiamo copiarle sul nostro computer liberamente e questa direi è la versione più semplice che mi viene in mente per spiegare diciamo come utilizzare il ConfiUI attenzione che ci sono molti sistemi per installarlo quello che vi ho detto dal sito GitHub è fondamentalmente uno dei più semplici però volendo si possono scaricare tante altre cose anche da questo sito e ci sono varie versioni qui ad esempio c'è Portable Nvidia oppure ci sono le versioni notturne oppure ci sono in giro quindi basta solo cercare ci sono delle versioni alternative che consentono eventualmente l'installazione più semplice quindi è tutto per ConfiUI poi il prossimo video vedremo come usarlo proprio un pochino con SDXL Grazie a tutti Grazie a tutti